Musica Bentornati a Schettici 24 Economia per una puntata questa dedicata al crowdfunding. Che cos'è? Chi lo conosce naturalmente non ha bisogno che lo presentiamo. Per chi non lo conosce possiamo dire che riduttivamente viene definito il fenomeno delle collette online su internet. Ma è un fenomeno naturalmente molto più complesso che anche incubatore d'impresa, modo per attrarre capitali per chi ha delle idee, per chi ha degli investimenti. Insomma è tutto quel genere di fenomeni in rapidissima crescita e ascesa in tutto il mondo con cui si raccoglie denaro in rete per finanziare idee che magari sono buone idee ma che non trovano altrimenti soldi per essere sviluppate. Parliamo di tutto ciò con i nostri ospiti. Qui in studio con me Alessandro Lerro, esperto del settore, autore anche di un libro che si chiama Equity Crowdfunding, proprio su una parte di questo fenomeno. Benvenuto. Esatto, grazie mille. Accanto a lui Mattia Ventura, giovane romano che è un, possiamo dire, un inventore che ha sperimentato il crowdfunding per produrre l'oggetto che Mattia tieni in grembo. C'è questa valigetta di cui parleremo tra poco. Benvenuto. Grazie. Collegati con noi da Milano, Andrea Rangone, responsabile di Poliabe, docente di e-business al Politecnico di Milano. Benvenuto. Grazie, salve. E Nicola Lencioni che è amministratore delegato di Eppela che è una delle piattaforme italiane su cui si fa questo crowdfunding. Benvenuto Lencioni. Grazie, salve a tutti. Per introdurre l'argomento vediamo un altro caso concreto. Ce lo racconta Silvia Monsagrati in questo servizio in cui andiamo a conoscere un gruppo teatrale che si chiama I Bugiardini, che grazie appunto a una raccolta di soldi, di fondi su internet, è riuscito a coronare il sogno di andare al prestigioso Fringe Festival di Edimburgo. Vediamo. L'idea è stata quella di creare uno spettacolo improvvisato ispirato ai film muti e la cornice migliore dove poter portare per la prima volta nel mondo uno spettacolo del genere era il Fringe Festival di Edimburgo che è il più grande festival teatrale almeno d'Europa. Avevamo letto di questo crowdfunding che per noi era una parola misteriosa e ci siamo iniziati a informare e ci siamo detti perché no proviamoci e quindi abbiamo dato via questo progetto di crowdfunding. Nessuno di noi ci credeva, in realtà abbiamo detto vabbè proviamoci ma non ci arriveremo mai. Invece abbiamo avuto un sostegno con un entusiasmo clamoroso, quasi incredibile da parte dei nostri fan, chiamiamoli così. Grazie a 139 founders che hanno finanziato la nostra impresa con dei contributi che partivano da 5 euro, 10 euro 25, fino ad arrivare a un teatro che ci ha finanziato per 1000 euro. Noi gli abbiamo garantito che a marzo faremo uno spettacolo e faremo probabilmente la prima italiana dello spettacolo a Rimini al teatro. I soldi arrivano nel momento della donazione, infatti una delle cose più belle di quel periodo era controllare il cellulare ogni 3 secondi perché a ogni donazione ti arriva una mail che ti dice hai ricevuto una donazione di X euro da tizio. Indiegogo si prende il 4% se riesci a raggiungere il tuo obiettivo e il 9% se non riesci a raggiungere l'obiettivo. I bugiardini, il loro obiettivo sono riusciti a raggiungerlo e nel tempo prefissato sono riusciti a raccogliere i 5000 euro di cui avevano bisogno e a partire per il Fringe Festival di Edimburgo. Voi avete dovuto dimostrare di aver realizzato il progetto oppure si fidano? È tutto sulla fiducia? Se noi avessimo preso i soldi e non avessimo fatto lo spettacolo praticamente la nostra reputazione sarebbe stata compromessa nei peggiori dei modi. È successo in passato che per determinate attività di crowdfunding qualcuno abbia preso i soldi e sia scappato. Il nome è pubblicato su tutti i siti internet. Se non li aveste raggiunti? Saremmo probabilmente partiti lo stesso, però grazie al cielo non abbiamo avuto di questi problemi perché sono arrivate donazioni in abbondanza e poi insomma lo spettacolo, ripeto, Edimburgo ha avuto così successo che noi siamo felicissimi anche di come sia andato poi il seguito. Allora, Lerro, si possono definire collette online o è troppo riduttivo? Sicuramente è riduttivo. Diciamo che a seconda della finalità del finanziamento raccolto abbiamo diversi tipi di crowdfunding. Alcune sono delle vere e proprie collette. C'è chi riesce a finanziarsi il viaggio di nozze o la scuola privata per i figli. In altri casi invece la raccolta di denaro è più finalizzata al sostegno dell'innovazione tecnologica, al sostegno dell'impresa come avviene oggi addirittura con l'equity crowdfunding. Però ecco, le tipologie sono molto diverse tra loro e nella famiglia del crowdfunding rientrano numerosissime fattispecie diverse. Nicola Lencioni, veniamo appunto alle cose pratiche. Ci raccontavano i bugiardini, questo gruppo teatrale che abbiamo incontrato, che hanno detto, ma che bell'idea, facciamola anche noi. Può farlo chiunque, con qualsiasi progetto? Ci sono molte piattaforme in Italia, come altrove? Cioè, o c'è un qualche filtro, bisogna che qualcuno te lo approvi? Come funziona? Noi in Italia abbiamo creato sulla nostra piattaforma, su Appela, un minimo di filtro. Quindi andiamo a analizzare realmente la fattibilità del progetto. Quindi abbiamo un customer care che analizza il progetto sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo economico. Quindi andiamo a cercare un dialogo con il progettista. E Appela comunque è una piattaforma rivolta generalista a tutte le varie realtà, tranne quelle personali, quindi non imprenditoriali. Quindi se vuoi finanziare una vacanza oppure una festa di laurea, ci sono piattaforme che noi consideriamo dedicate che si rivolgono a questo sistema. Rangone, veniamo sempre per restare agli aspetti pratici. Che sicurezza c'è che tutto ciò avvenga in modo corretto? Cioè abbiamo anche sentito in nostre intervistate che ci dicevano qualcuno ogni tanto ha preso questi soldi senza poi fare quello che aveva detto, però la reputazione ormai è completamente rovinata, non se lo fila più nessuno. C'è solo questo? Ci sono altre forme per essere sicuri che i soldi che io do vengano effettivamente impiegati in quelle cose? Alcune volte è molto semplice, altre volte sono cose immateriali, magari più complicato controllare. Diciamo che i meccanismi sono un po' di due tipologie. Il primo è quello che è stato detto, basato molto sulla reputazione, sugli effetti negativi ben peggiori in termini di reputazione, qualora chi riceve i soldi attui dei comportamenti opportunistici. E questa è una prima categoria. La seconda categoria invece è legata ai filtri, quindi ha la capacità di valutare, di selezionare da parte del gestore della piattaforma di crowdfunding. Qui ci sono situazioni molto eterogenee, chi ad un estremo non applica proprio nessun filtro e quindi è chiaro che c'è più probabilità che qualcosa succeda, chi invece è molto attento nel selezionare, nel valutare, nell'interagire, nel parlare con colui il quale richiede i fondi. Mattia Ventura, veniamo alla tua esperienza. Innanzitutto, come è nata? Nel senso che hai avuto un'idea, non avevi i soldi, hai detto facciamo questo, te l'hanno spiegato. Come hai scoperto che c'era questa possibilità? Raccontaci come è nata l'avventura di questa valigetta che hai in mano. Allora, ho scoperto l'esistenza dell'opzione di crowdfunding su internet. Curioseando un po' nel web, tra le tante cose, è uscita questa opzione qui. Allora decisi di... Che cosa volevi fare? Qual era la tua idea? Come ti è venuta l'idea per cui poi hai chiesto i soldi? L'idea è arrivata alla fine del liceo. Io avevo due strade. Come tanti giovani, potevo continuare, entrare all'università o altrimenti buttarmi su un progetto di cui mi ero appassionato, che era questo. Mi era venuta questa idea di creare una valigetta con caratteristiche militari per i computer portatili, per un uso quotidiano. Trovare i soldi in Italia... Una valigetta che tu ci metti dentro il computer può anche passarci sopra un autocarro e non si rompe. Diciamo così, ci siamo saliti sopra con la macchina, non abbiamo trovato l'autocarro, però probabilmente resisterebbe pure con l'autocarro. Quindi abbiamo... Ho definito un po' i concetti base, ho chiesto qualche preventivo, mi sono fatto un'idea delle spese, delle strade da intraprendere e dopodiché serviva a trovare i soldi. Quanti soldi? All'inizio servivano circa 50.000 euro per fare una cosa fatta bene con i materiali che volevo utilizzare io. Noi usiamo tutti materiali di ultima generazione, molto innovativi, che sono molto difficili da trovare sul mercato italiano. Allora, per trovare i soldi c'erano delle strade brevi e delle strade un po' più lunghe e tortuose. Quelle lunghe e tortuose sono le banche, sono le varie situazioni... Lunghe e tortuose che a volte non portano da nessuna parte, come sappiamo, soprattutto con questa crisi. Esatto, i business angels, eccetera. L'altra era quella di affidarsi alla folla, quindi proprio la parola crowdfunding, di girare un video, di spiegare il progetto e di sperare che qualcuno lo apprezzasse. Mi sono buttato in questa iniziativa, ho trovato un amico che mi potesse aiutare per girare il video, abbiamo girato in fretta e furia questo video. Un video di presentazione che uno mette in queste piattaforme per dire ecco chi sono, ecco la mia idea, datemi i soldi sostanzialmente. Esatto. E quanti soldi hai ricevuto alla fine? Abbiamo realizzato più di 43 mila sterline in meno di 30 giorni, vendendo più di 500 valigette. E quindi le persone che ti hanno dato i soldi poi hanno avuto qualcosa in cambio oppure no? Cioè era una... Era una... Sì, hanno avuto... Avranno il prodotto, lo stiamo producendo in questi giorni, presto avranno il prodotto a casa loro. Diciamo che loro hanno comprato una promessa di... Quindi i tuoi finanziatori sostanzialmente erano persone che hanno poi comprato il prodotto e quindi hanno finanziato la realizzazione di un prodotto che volevano poi ricevere. Esatto. Lerro, la questione di che cosa va in tasca a chi dà i soldi naturalmente è fondamentale. Se io vado appunto su queste tante piattaforme di crowdfunding, la più famosa è Kickstarter, quella americana, e do i soldi, che me ne viene in tasca? Cioè quali sono i modi con cui si può dar qualcosa? A volte donazione a fondo perduto, pensiamo ai progetti sociali. Certo, il modello di Kickstarter si chiama reward-based. In pratica consiste nel dare qualcosa in cambio del finanziamento. In particolare tramite Kickstarter il modello di crowdfunding più utilizzato è quello del preordine, di un bene futuro. Per andare in produzione c'è necessario di un certo importo di denaro. si indica questo importo di denaro. Nel momento in cui, come è successo nel caso del nostro amico, si ottiene quella somma, si può andare in produzione e quindi il finanziatore riceverà al termine della produzione quel bene. È un preacquisto. È un preacquisto pure e semplice. Quindi giuridicamente parlando è una forma di e-commerce, niente di diverso, con l'alea però che dipende dal fatto che quel bene deve andare in produzione. C'è stato un esempio enorme ultimamente quello del cellulare, dello smartphone di Ubuntu che doveva raccogliere decine di milioni di dollari. Ne ha raccolti tanti ma non sono stati sufficienti. Quindi in quel caso lì poi che succede? Uno continua a produrre, a cercare di produrlo? Nella formulazione americana che poi è utilizzata in tutti i paesi del mondo il progetto non va a buon fine e quindi chi ha lanciato la campagna non riceve nemmeno un centesimo. E su questo andiamo. Allora, Lencioni, che succede? Se io, come Mattia Ventura, ho un'idea non so dove trovare i soldi vado su una piattaforma di crowdfunding ho un tempo prestabilito per trovare una cifra prestabilita se questa cifra non mi arriva si perde tutto oppure posso fare con quello che ho ottenuto. Come funziona? Assolutamente nulla. Se non si arriva al break-even non si va avanti con il progetto, assolutamente. E quindi non vengono addebitati ai donatori i costi di transazione economica che non c'è a quel punto. Quindi il progetto torna a casa e non ci sono costi né da parte del progettista né da parte del consumatore finale. Noi rispetto a Indiegogo che penalizza un po' il progettista con questa tassa del 9% abbiamo preferito replicare il modello di Keystarter dove la piattaforma preleva soltanto un 5% soltanto a buon fine. Questo per far capire che è importante anche nella scelta della piattaforma una piattaforma che dialoga con il progettista affinché il progetto sia esposto in maniera molto chiara al pubblico finale e che ci sia anche attività di comunicazione da entrambe le parti perché se non c'è attività di comunicazione ma si mette soltanto il progetto online il rischio forte è quello di raggiungere la cifra pari a zero. Per correttezza ricordiamo che non sono qui rappresentati i responsabili di Indiegogo invitiamo naturalmente a andare sulle varie piattaforme per farsi un'idea di persona di quelle che sono le condizioni. Rangone, quali sono i rischi dal punto di vista di chi ci mette i soldi nel senso che mi spiego meglio chi ha il progetto conosce bene tutto quanto la piattaforma, i meccanismi eccetera chi non lo conosce, chi è un contributore magari queste cose non le sa quali sono le indicazioni che uno può avere per farsi un'idea di quello a cui stare attenti e non rischiare di mettere i soldi in cose che poi dici, oh mamma mia, chissà a chi li ho dati. Rispondo a questa domanda poi magari voglio portare un attimo l'attenzione anche su quella specifica tipologia di crowdfunding che viene detta equity perché è un bellissimo canale proprio per finanziare le start-up e penso abbia una sua valenza assolutamente unica nel mondo del crowdfunding. È chiaro che qui chi dà i soldi un po' deve fidarsi deve fidarsi dell'informativa dell'informazione che riceve attraverso il portale non c'è tanto di più. D'altra parte è anche vero che le ricerche internazionali e fatte anche nei paesi un pochino più avanti dimostrano che in realtà la percentuale di comportamenti opportunistici da parte di chi richiede i soldi sono tutto sommato molto molto basse. Accennavo appunto al tema all'utilizzo del crowdfunding proprio invece per andare a finanziare una vera e propria nuova impresa. È stato recentemente, prima dell'estate e fine luglio approvato il regolamento della Consum che consente proprio di utilizzare queste piattaforme anche per finanziare le cosiddette start-up quindi le nuove imprese. In particolare in questo momento il focus è limitato alle cosiddette start-up innovative quelle quindi che si occupano degli aspetti più tecnologici e ben normate all'interno del decreto sviluppo bis di dicembre scorso. Ecco, pongo l'attenzione su questo aspetto perché penso che sia veramente un po' una rivoluzione ed una importantissima novità che riguarda finalmente il nostro paese per diversi motivi. Uno, perché comunque siamo stati primi a regolamentare a livello internazionale prima degli stati uniti. Questo rangone, ricordiamolo fermociate, è una cosa importante noi stiamo sempre in questa trasmissione in modo particolare un po' a piangerci addosso a dire all'Italia fanalino di coda, ultimi per una volta in questo settore l'Italia è il primo paese che si è dato una regolamentazione seria anche gli americani e gli inglesi proprio ultimamente recentissimamente stanno andando in quella direzione però noi con la Consum che è stata investita dal governo di questo compito abbiamo fatto un regolamento per dire quali sono le garanzie anche per chi mette i soldi in questo particolare tipo di crowdfunding. Proprio vero sottolineiamo sottolineiamo anche perché ero proprio agli inizi di agosto con un collega americano e lui stesso ci ha fatto i complimenti ha fatto applauso poi possiamo discutere se il regolamento è migliorabile è buono, non è buono è chiaro che luce e ombre ci sono questo è chiaro ma intanto intanto siamo stati i primi e iniziamo primi primi al mondo un importante processo di apprendimento perché perché poi su queste cose così innovative nessuno ha la verità in tasca e quindi è importante iniziare a partire sono convinto che nei prossimi mesi da quello che concretamente accadrà in questa specifica tipologia di crowdfunding è chiaro che verranno tantissimi input tantissime informazioni che ci consentiranno eventualmente di migliorare questo regolamento andiamo a vedere poi come parte questo canale ricordiamo l'equity crowdfunding è un tipo particolare di crowdfunding in cui io divento sostanzialmente azionista di una piccola società innovativa che raccoglie i soldi su internet e quindi prende un pezzo di capitale di questa società Lerro anche lei è esperto proprio di questo particolare fenomeno di che cifre stiamo parlando perché uno potrebbe dirsi ma beh sì interessante ma magari sono quattro soldi quanti soldi muove il crowdfunding al mondo e anche in Italia i dati sono estremamente interessanti l'equity crowdfunding è appena iniziato e quindi i dati relativi sono piccoli guardando il crowdfunding nel suo complesso nel 2012 sono stati raccolti 2,7 miliardi di euro di dollari scusate si chiude il 2013 con oltre 5 miliardi di dollari ma in questi giorni è uscito il rapporto di Banca Mondiale che presenta una proiezione al 2025 di circa 93 miliardi di dollari quindi comincia a essere una fonte di finanziamento insomma di credito possiamo dire anche interessante e per riagganciarci a quello che si diceva prima lo stesso rapporto di Banca Mondiale ha verificato che i casi di frode sono praticamente inesistenti perché la rete ha una fortissima capacità di autoregolamentarsi di smascherare il truffatore si parla soltanto di 4 casi di tentativi di frode due dei quali rientrati con la restituzione del denaro ai sottoscrittori e altri due in corso di risoluzione quindi ci sono gli anticorpi in rete Lencioni c'è anche un altro aspetto che è intrigante cioè a volte ci sono cose proprio ma frivole frivole abbiamo trovato due esempi tra tutti i progetti andati in porto i progetti che hanno avuto il finanziamento negli Stati Uniti una teglia a forma di pigreco per fare le torte a forma di pigreco ha avuto il doppio dei soldi che aveva richiesto un altro invece era per costruire una testa gigante gonfiabile di Lionel Ricci anche questo ha avuto il triplo dei soldi che aveva richiesto c'è questa percentuale anche come diamo le immagini relativi c'è questo anche appunto percentuale di così di goliardia in questo fenomeno perché è difficile chiamarla altrimenti no sicuramente sì noi abbiamo ricevuto migliaia di progetti dal 2011 ad oggi stiamo per scrivere proprio un libro per parlare anche della nostra creatività italiana siamo famosi nel mondo anche per questo i progetti più bizzarri che avete ricevuto quali erano ma a me piace sottolineare un progetto invece che tanto strano non è ma che comunque coinvolge molto a livello di geolocalizzazione anche la città di Milano io stasera mi sono messo questa spilla del circolo Magnolia che è un circolo che conoscerete bene culturale musicale su Milano che ha fatto un'attiva campagna di crowdfunding coinvolgendo tantissimo i giovani e anche i meno giovani con artisti di primo livello tipo Elio Le Storie Tese ed altri artisti che hanno contribuito più che con una colletta che sminuisce come si diceva prima un po' la cosa ma entrai proprio in fase di coproduzione quindi anche chi mette soldi a disposizione potrà avere il dietro le quinte o scrivere il proprio nome dietro il palco e quindi ci sono cose molto umane che risolvono parecchi problemi e tra l'altro Rangone questo fenomeno coinvolge anche istituzioni pubbliche ci sono musei anche in Italia che fanno partire dell'operazione di crowdfunding ad esempio per acquisire opere e naturalmente non dimentichiamo tutto ciò che è il sociale la cooperazione è un mondo vastissimo che insomma si sta mettendo prepotentemente in moto è proprio così d'altra parte il crowdfunding sfrutta al meglio direi è la potenza della rete la potenza di internet che arriva ovunque che è ubiqua che riesce a raggiungere chiunque e quindi riesce a creare quell'incontro fra chi possiede un'idea in qualunque ambito in qualunque campo anche appunto le più stranali le più creative e chi dall'altra parte in qualunque angolo in realtà del mondo perché poi molte piattaforme o mai sono internazionali è in qualche maniera attratto da questa idea e per qualche motivo è anche voglioso di andarla a finanziare quindi di fatto sopperisce a una tipica carenza invece dei mercati normali più standard convenzionali di incontro fra domanda offerte di finanziamento che sono proprio limitati dalla mancanza dell'ubiquità della rete Mattia Ventura questa avventura di crowdfunding che ti ha permesso di realizzare questa tua idea si è trasformata anche in una nuova società cioè continuerai con questo tipo di attività oppure è un episodio singolo confinato nel tempo e adesso fai altro no io ho fondato una società che si chiama Vivax e voglio continuare per questa strada voglio cercare adesso stiamo cercando dei distributori stiamo cercando nuovi sbocchi voglio cercare di portare avanti questo progetto anche perché abbiamo avuto dei risultati talmente grandi che pensiamo che questa sia un'idea che può essere davvero di successo quindi diciamo è stato proprio un incubatore di impresa come si dice questa tua ricerca e richiesta di fondi su internet sì forse anche di vita addirittura nel senso che per me sta diventando un percorso di vita ho scoperto tantissime cose che prima non sapevo e sto intraprendendo una strada che mi sta affascinando tantissimo ultima domanda per chiudere pratica 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 si pagano le tasse sui soldi che ti danno con il crowdfunding io non le ho pagate beh su questo ci fermiamo non vogliamo indagare oltre però chiediamolo forse abbiamo ancora qualche qualche secondo Lencioni i soldi che mi danno su internet sono tassabili mi fanno imponibile sicuramente sì sicuramente sì c'è tutta transazione economica che c'è tra le varie parti ovviamente deve essere regolamentata come attività come se fosse un e-commerce vero e proprio vorrei sottolineare soltanto una cosa che è molto importante un consiglio per chi si avvicina a questo settore la differenza fa reward ed equity la differenza secondo noi noi stiamo spingendo molto i progettisti in Italia a partire a testare il loro prodotto la loro idea con il reward per vedere anche che tipo di risposta sul mercato ci può essere perché a quel punto hanno la possibilità di fare equity offrendo garanzie maggiori di fattibilità e di sostenibilità dell'idea allora su questo ci fermiamo e ringrazio gli ospiti che sono stati con noi Lenina torna al telegiornale e ringrazio gli ospiti e ringrazio gli ospiti e ringrazio gli ospiti